Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo Two Minutes Ready, ultimo episodio di questa Rockstar Week. Ringrazio anticipatamente chiunque abbia seguito tutti i video della settimana. È stata una settimana lunga ma molto divertente. Oggi parliamo dell'ultimo brano che tratterò di Rockstar, ossia 20 collane. Ci concentreremo sul suono dell'intro. Per prima cosa, ascoltiamo. Allora, per prima cosa, come sempre, guardiamo le note. Allora, le note sono La Re Fa suonate insieme, poi La Re suonate separatamente e poi La Do Dies Mi suonate insieme. Quindi Poi La Alto, Mi e di nuovo La Re Fa E poi Re, Sol, Fa e di nuovo La Do Dies Mi suonate insieme. Infine, le ultime due note sono Re e Mi separatamente. Tutti insieme suonano così. Ma ora vediamo il suono. Si tratta chiaramente di un suono campanellinoso, leggermente percussivo. Quindi, per prima cosa, apriamo le nostre campanelle e cerchiamo il suono che più gli assomiglia. Allora. Ovviamente queste sono sempre quelle gigantesche che non vanno bene. Potrebbe. Potrebbe, potrebbe. Qualcos'altro di rinforzo, però, potrebbe fare il caso nostro. È questo. Ha un pochino più di punta all'attacco, potrebbe. Sì, 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 potrebbe essere. L'ultima cosa che potrebbe servirci è un suono percussivo, un mallet, tipo uno xilofono. Andiamo quindi a cercare qualcosa del genere, per dargli quella punta percussiva. È tipo... Aggiungiamo ad entrambi i nostri 200 kg di riverbero, un pochino di più alle campanelle rispetto all'oxilofono. E alle campanelle aggiungiamo anche un filo di delay. Attiviamo tutti e tre i suoni, abbassiamo tutti i volumi e li alziamo uno alla volta. Forse è un po' troppo delay. Bene, direi che ci siamo avvicinati abbastanza. Grazie mille per aver seguito questo Two Minutes Ready. Io vi ricordo, come sempre, di consigliarmi un nuovo brano nei commenti e di visitare il mio Patreon se volete supportare il canale. A presto!